Quando è arrivata la notizia, mi ricordo come se fosse ora, stavo parlando al telefono con i miei genitori e mi è arrivata una mail. Ho aperto la mail e ho trovato la mail del ministero e quindi lì diciamo che i miei genitori erano con me al telefono e hanno condiviso la mia gioia perché non ci credevo. Ho riletto non so quante volte quella mail. Sicuramente stupefacente, mi ha riempito di felicità oggettivamente perché era quello che speravo, era quello che speravo ma che non pensavo fosse realmente possibile a metà settembre, ecco pensavo che ci sarebbe voluto più tempo e che non sarebbe durato così tanto. La prima settimana di scuola non mi chiamavano, mi ero un po' scoraggiata ma poi hanno iniziato a chiamarmi tutti. Il conteggio base è aumentato e devo dire che sto ricevendo anche delle convocazioni da parte delle scuole. Ho ricevuto una chiamata sempre da GPS all'inizio dell'anno. Sottobre è arrivata subito la prima chiamata e riesco a finire l'anno. Sono riuscito ad entrare nel primo giro di nomine che è stato il 7 settembre, non mi era mai capitato. Ho ricevuto improvvisamente questa chiamata che appunto mi veniva richiesto di presentarmi il giorno successivo in questa nuova scuola che tra l'altro è una scuola anche più vicina a casa rispetto a dove ero prima quindi c'è stato doppio vantaggio. L'anno scorso è stato il mio primo incarico. Stanno il secondo ma ovviamente sono in maternità. Stanno poi ho ricevuto un incarico annuale praticamente fino al 30 giugno da settembre. Quando ho ricevuto la mail con la convocazione sicuramente sono rimasta senza parole. Ho cominciato a ricevere tantissime convocazioni e poi ho ricevuto un incarico annuale. Ero appena andato a comprare apprezzatura per giocare al padel. Mi arriva un'email, incarico annuale. L'anno è stata chiamata direttamente dal ministero tramite GPS. Sono molto stupita, molto sorpresa perché onestamente non mi aspettavo di iniziare subito a settembre. L'incarico l'ho preso addirittura prima. Ho chiamato per una sorpresa fino al 30 giugno. Il primo di settembre avevo già l'incarico da GPS. Sono felicissima, mi si è aperto un mondo bellissimo. Grazie mille. Grazie mille.